eh Antonio inutile che metti a posto il tavolo ma qui non c'è niente qui non c'è niente no perché c'è niente c'è tavolo vuoto dopo che mi hai fatto montare la camera oscura adesso montiamo la macchina fotografica scusami cioè? guarda qua che bella Polaroid Lego della Lego cioè quanti pezzi? beh pochi 516 dai no ma vabbè ma dai io vado a casa ma il Titanic ne dici mila state lì vediamo come va a finire ciao ragazze e ragazzi bentornati al bar della fotografia Antonio se ne ha inventato un altro ciao Antonio allora se ne ha quasi 10 mila pezzi questi ne ha 516 la bazzecola no ma che cos'è ma è funzionante no non credo che sia funzionante c'è la pellicola qua con sulle foto stampate ma sulla plastica penso si possa aprire comunque lo sportellino davanti per inserire le foto non ho capito perché la chiamano Polaroid One Step SX70 camera che sono due cose completamente diverse c'è l'SX70 una cosa una step l'altra qui c'è scritto una step qui c'è scritto sulla cartuccia SX70 però boh non lo riesco a capire adesso vediamo vediamo unboxing guarda che qui però c'è scritto una cosa che non so se è adatta a noi 18 e più 18 anni più niente no niente ti vediamo qua il video ciao a tutti ciao diamoci io 18 anni che bello da che parte si aprirà si ecco ecco cominciamo bene e ma da che parte si apre questa roba bisogna sbragarlo ma qua qua guarda ma c'è il sigillo bisogna schiacciare qui bisogna schiacciare qui spaccare la scatola spaccare la scatola qua qua uno ok due poi vanno pezzi dappertutto poi il montaggio è finito basta che arrivino i gatti poi abbiamo trovato il secondo motivo per finire il video no dobbiamo montarla per fortuna stasera perché ah si non puoi lasciarla in giro ok ma questo qui non ci serve più potrei prenderne una già montata adesso uno tre due quattro questo qui non so cosa siano vabbè qui ci saranno le istruzioni? penso di sì stai registrando vero? io sto registrando quella sta registrando quella sta registrando benissimo questo penso che stia registrando non lo so presumiamo allora qui abbiamo il libretto di istruzioni di montaggio qui abbiamo già dentro le foto vabbè se abbiamo già le foto basta no? cioè scusa gli adesivi puoi mettere quello che ne voglia one step la mille c'è anche il retro cosa vuoi di più? il retro che c'è? ah è vero guarda che bello c'è la sacca no la sacca non c'è però c'è il nero del retro c'è il nero del retro dai partiamo Bruno partiamo io ti riprendo ti riprendo mi devi aiutare? eh sì ti devo aiutare con 516 pezzi penso che verrà un video da quattro ore posso chiamare l'aiuto da casa? vuoi avere l'aiuto da casa? voglio avere l'aiuto da casa prima voglio vedere i pezzi però la casa è la casa mia nel senso che è di via saccazza uno ma ciao ma ne voglia ma no ce la facciamo se uno tira fuori i pezzi e l'altro i cosi già se unisci l'uno al due mi sa che no ma devo unire uno per volta uno per volta adesso qua ti serve per esempio questo qui che è qua io guardo e basta ora facciamo una roba rapida uno due e tre poi ti serve quello nero qua uno più un cubetto di gara sai chi dobbiamo chiamare per questa cosa? l'aiuto da casa te l'ho detto? no no noi dovremmo chiamare il nostro amico Gianluca Bocci ah è vero che lui è un appassionato di lego e ci potrebbe dare una mano vabbè guarda qua comunque uno così poi ne abbiamo uno di questi più uno di questi ascolta facciamo una bella roba chiamala aiuto va facciamo l'aiuto? si no ma guarda qui che sto procedendo bene aiuto! comunque andiamo avanti allora poi mi serve sei che sarà 60 anni che non gioco con il disco? questo me ne servono tre di questi qua guarda qui che bello tre di questi qua poi me ne serve uno di questi qui e uno di questi qua intanto qui ci mettiamo un attimo a fare un quarto d'ora è pronta buono questo qui va qui poi ci va il polaroid nero guardalo qui dov'è che è uno e due voilà ma questa è questa è la confezione beh un spesso c'è già da questo c'è già visto che velocità ok buono abbiamo finito abbiamo finito basta guarda escono le foto guarda che bella già sviluppate dopo facciamo il paragone con le dimensioni reali con una macchina simile ma vatti a montare lì vado vai Bruno è arrivato l'aiuto da casa è arrivato l'aiuto da casa allora io all'aiuto cedo il posto vieni Ari vai pure io mi metto qua e faccio lo spettatore guarda bravo ora sei via no sto in piedi bravo perché vedo meglio e riprendo meglio Ari allora siamo arrivati al punto di non ritorno di non ritorno sì ormai di non ritorno perché le buste sono aperte siamo qua dalla busta 1 però ho già montato vedi questo qua bellissimo il porta a corde deve stare a coso più dentro di uno così no non credo sì perché deve essere qua dentro giusto esatto qua perfetto buono poi sacchetto 1 finiti eh sacchetto 1 finito a parte 2 siamo pronti non ho capito cosa saremmo gli elastici l'entusiasmo di bruno è palpabile bruno vuole andare in camera scura adesso andiamo facciamo sta cagata che ci porterà spero qualche visualizzazione però e ci farà perdere degli iscritti malati iscritti lo facciamo uscire insieme a un altro video esatto tada pronta Ari? devo avere i rifletti? certo e intanto tiro fuori i tuoi stick questi qua guarda il carrellino qua che bello molto bene siamo al terzo sacco bruno tra via veloce siamo oltre la metà mi può anche essere un po di grappina nel caso nel frattempo no sennò non finisce più giusto così per gradire ma no ma adesso vedrai che ragazzi io mi dissocio da questa cosa vedi bruno qua penso sia il pulsante di scatto qualcosa del genere che adesso non lo so per carità se dobbiamo vedere un attimo come deve venire fuori però è il pulsante di scatto questo quindi dopo ci metteremo dopo qualcosa dietro penso per per farlo tornare fuori molto interessante molto interessante andiamo avanti Ari allora uno di questi qua si gira così si gira qua qua questo qui va qui così dovremmo esserci giusto? io non vedo lì sì per forza perché dietro non ci sta ok ok buono ah dopo ci vedo la parte davanti vedi ok perfetto ce l'abbiamo fatta quindi dammi la foto qui ho visto che bisogna mettere le foto si carica giusto da qua eh non so guarda le istruzioni però allora si apre ok la foto si mette dentro così ok chiudiamo e scattiamo ma fantastica sono anche fotogenica Bruno aspetta che ti faccio una foto aspetta adesso vengo stai 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 che mi metto qua aspetta Bruno che ti faccio una foto stai con in mano qualcosa lì eh aspetta Bruno con in mano lo stabilizzatore tra l'altro ci si vede dentro qua eh guarda che bellissimo vadovi vedere qua dentro sa per te ne prendo una ne prendo una di quelle vere vada cosa ne pensi? sarà meglio vada così guardiamo oh tempo recco mi hai fatto un lego così un'ora e mezza non capisco perché la chiamano sx 70 perché la sx 70 è questa qua però vabbè dimensioni fotogrammi fotogrammi più piccolini sono da arianna antonio bruno bruno che non ne può più eh brunino quelle sere che mediti come farla finita adesso ti porto in camera oscura bruno eh sarà meglio sai ma sai anche quelle sere dove dici bevi per dimenticare ecco questa è una di quelle sere bravo sai qual è il problema che è vuoto che è vuoto ringraziamo sempre il nostro amico Marco che ci ha offerto la grappa arriva un goccino? no grazie c'è stegna? c'è stegna stavolta ragazzi salutandovi invitandovi ad iscrivervi però adesso vi lasciamo anche un altro video eh perché questo qui veramente chiedo scusa e alla prossima è stata una stupidata ciao 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 ciao